A partire dal prossimo anno, gli edifici di nuova realizzazione nel Regno Unito, case e locali commerciali, dovranno includere stazioni per la ricarica delle auto elettriche. Ad annunciare la legge è stato il primo ministro Boris Johnson, in occasione del meeting annuale della Confederazione dell'Industria. Le vendite di veicoli elettrici nel Regno Unito stanno aumentando del 70% all'anno e nel 2030 chiuderemo agli ICE i veicoli a combustione interna prima di altri paesi europei. Il governo del Regno Unito ha già sostenuto l'installazione di oltre 250.000 punti di ricarica. Con la nuova legge ne prevede ulteriori 145.000 all'anno. Si tratta di un passo importante verso il divieto di nuove vendite di autodiesel e benzina a partire dal 2030, come parte degli sforzi per raggiungere zero emissioni entro il 2050.